. Continua su canale 5 la programmazione della serie tv americana Beautiful, che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13 e 40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 16 a domenica 22 agosto, Rich chiederà il perdono a Brooke. Ma la donna si mostrerà molto resti a concederglielo perché si sentirà tradita da lui. Inoltre Queen esorterà Shauna a vivere il suo amore pienamente, mentre Steffi continuerà a stare male e Thomas le starà accanto. Nelle puntate di Beautiful che saranno trasmesse dal 16 al 22 agosto, Thomas starà vicino a Steffi, che non si è ancora ripresa del tutto dall'incidente avuto. Intanto Shauna proverà dei sensi di colpa per tutto quello che ha fatto per sposare Ridge. Ma Queen la inviterà a godersi appieno il suo matrimonio. Inoltre Brooke parlerà con Donna e le ribadirà che non potrà mai dare il suo perdono al Forrester, che dopo aver saputo del bacio dato a Bill ha subito rimpiazzata con Shauna. Ridge invece proseguirà nell'avere un'amnesia, che non gli fa ricordare nulla di quanto fatto a Las Vegas. Secondo le anticipazioni tv fino al 22 agosto, Eric parlerà apertamente con Brooke e la inviterà a lottare per riavere con sé l'uomo che ama. I due concorderanno sul fatto che ci sono dei lati oscuri su quanto raccontato da Shauna. Intanto Ridge andrà a trovare Steffi e le svelerà le ultime novità, con la giovane Forrester che resterà sbigottita. Inoltre Queen e la giovane Fulton ripercorreranno tutti gli accadimenti che hanno portato a siglare le nozze a Las Vegas. Nel frattempo Shauna si mostrerà molto dubbiosa sui raggiri perpetrati per avere Ridge. Ma la Fuller la esorterà a vivere pienamente il suo nuovo ruolo da signora Forrester. In tutto questo Steffi confermerà a Thomas che loro padre si è unito in matrimonio con Shauna. A questo punto il ragazzo che penserà che la donna ha raggirato l'uomo. Nello stesso momento la giovane Forrester si sentirà male e il fratello le dirà di chiamare il dottor Finnegan. Per farsi prescrivere altri antidolorifici. In base agli spoiler della prossima settimana, Eric sarà ancora stupito di quanto fatto dal figlio e gli chiederà come intende comportarsi. Intanto si terrà un confronto acceso tra Quinn e Brooke, nel corso del quale quest'ultima accuserà la giovane Fuller di essersi intromessa nel matrimonio di Ridge e Shauna e che tutto è frutto di un imbroglio. In quanto l'uomo ama solo ed esclusivamente lei. Inoltre Forrester tenterà di farsi perdonare da Brooke. Mentre Quinn dirà a Shauna di vivere il suo amore senza tentennamenti. Nel frattempo Steffi dovrà sopportare vari dolori fisici, ma la presenza costante del fratello sarà molto importante per lei. Infine Brooke rifletterà su tutto quello successo nell'ultimo periodo e non potrà che essere delusa di come l'uomo più importante della sua vita. L'ha potuta tradire in maniera così superficiale. Inoltre Forrester